Credo che un allenatore sia bravo in C, bravo in B e bravo in Serie A, quindi voglio dire adesso anche lo stesso allenatore credo che stia mettendo le basi per affrontare il campionato poi stiamo lavorando molto sul piano fisico perché noi dobbiamo correre più degli altri Io sono venuto qua, ho già visto quello che è, la cosa più lampante è il fatto che proprio i più vecchi tra virgolette sono da traino per i giovani, non ho visto giovani presuntuosi anzi ho visto giovani che seguono, che hanno voglia di emergere quindi credo che sia l'ammalgama migliore sia questa anche perché se no un giocatore come Verratti non andrebbe al Paris Saint Germain a prescindere dai giocatori che verranno, questa è una squadra che si può salvare non tranquillamente ma si può salvare con quegli attributi, con quelle cose che hanno permesso a questa squadra di tornare in Serie A